Da richiedenti asilo a estorsori, protagonisti della vicenda, tre immigrati nigeriani, ospiti a Treviso della Serena. Ieri pomeriggio l'arresto dei tre da parte della polizia, poi ovviamente cercavano riparo dentro le mura dell'ex caserma. Ma per risalire i fatti bisogna andare a ritroso nel tempo di due giorni. E' mercoledì pomeriggio quando il trentenne nigeriano conosce a Dosson di Casier due amici trevigiani di 20 e 24 anni. Parlano, scherzano e ridono e così il nigeriano, attratto dall'orologio dei due, se lo fa a consegnare per ammirarlo ma scappa con il mal tolto. I tre però si rincontrano casualmente il giorno dopo in via Pindemonte, cioè nei pressi della caserma. Qui inizia il ricatto. Se rivuoi l'orologio devi darmi 50 euro. I trevigiani fingono di stare al gioco e così si danno un terzo appuntamento di lì a poco per scambiarsi soldi e orologio. All'incontro il nigeriano si presenta ascoltato da altri due connazionali che cerchiano i due trevigiani. Con uno dei due ricattati che finge di chiamare la mamma per farsi portare i soldi scordati a casa, dice. In realtà sta chiamando in diretta gli agenti della volante. E se i tre profughi mangiano la foglia e tentano la fuga, i poliziotti più scaltri arrivano dritti e dritti all'ingresso della caserma dove arrestano la cricca per estorsione e tentata estorsione. Qui oggi tra i migranti nessuno sembra sapere niente. A cominciare da Michael, 21 anni, dormivo, continua a ripetere. Non, 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 non Grazie a tutti